ed eccoci quando rientriamo rientriamo qui in studio lovantunesimo appuntamento qui di terza pagina magazine tra teatro musica spettacolo cinema e non solo ma è arrivato il momento di fare la prima prima primo appuntamento per l'anteprima della storica mostra d'arte 100 pittori di via margutta e non solo ma dal 10 al 13 giugno finalmente il taglio del nastro e diamo il benvenuto al presidente della storica mostra d'arte a in via margutta a luigi salvatori buonasera a te luigi buonasera buonasera a tutti eccoci qua allora finalmente taglio del nastro ci siamo siamo arrivati per omaggiare il grande maestro il grande un grande uomo alberto sordi nell'occasione del centriano della sua nascita e sarà presenziata da autorità e non solo allora entriamo subito nel focus ricordo ancora prima appuntamento prima anteprima ma poi ritorneremo per le news ultime news prossimamente sempre con luigi salvatore presidente della mostra d'arte via margutta prego a te la parola sì finalmente che è stata è stata molto offerta questa mostra perché è da da circa un anno che abbiamo desiderio di svolgerla era prevista in realtà per per ottobre e poi a causa covid è stata rinviata più volte e finalmente siamo appunto ecco di partenza e voglia voglia per tutti di bellezza e di arte quindi ecco scendiamo in campo il 10 giugno fino al 13 giugno e l'inaugurazione è prevista per appunto per venerdì 10 giugno alle ore 17 ecco l'inaugurazione sono presenti saranno presenti eh il direttore della fondazione Alberto Sordi eh il dottor avvocato Cirentino il quale farà esporrà brevemente la missione della fondazione anche perché la nostra associazione persegue anche noi percepiamo finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e i nostri scopi quindi trovano corrispondenza profonda anche in quelli della fondazione Alberto Sordi che sono finalizzati alla cura alla difesa della dignità della persona della della vita della qualità della vita sarà presente anche l'associazione dei vitelloni club Alberto Sordi il presidente Stefano Sariola ci sarà anche l'allestimento di uno stand con esposizione dei ricordi significativi della storia di Alberto Sordi che sono eh detenuti proprio dal dal dall'associazione i vitelloni saranno locandine manifesti materiali ehm messo da parte fin dai primi anni settanta raccolto e conservato dall'associazione i vitelloni poi sarà presente anche il sindaco di Velletri Orlando Pocci perché il sindaco di Velletri perché a Velletri c'è il polo espositivo eh fondazione museo Luigi Magni grande regista che scomparso che autore tanti film famosi di con Alberto Sordi tipo il nome del papa re il nome del popolo sovrano eh e quindi in occasione in questa occasione sarà presente anche il sindaco di Velletri e sempre anche anche il presidente della fondazione di cui di questo museo Alessandro Filippo e Tiziana Todi ecco Luigi una curiosità ecco ehm eh diciamo che ogni espositore ogni pittore ogni maestro metterà eh diciamo in esposizione eh una una sua performance diciamo un suo ritratto un suo quadro dedicato ad Alberto Sordi ecco questo da sottolineare perché è un omaggio molto importante. Sì è sottolineare che ogni ogni artista ehm porterà in in esposizione un quadro su Alberto Sordi quindi ci sono noi siamo cento artisti e l'attività quello che stiamo per svolgere è il centesimo anniversario della nascita di Alberto Sordi quindi cento artisti eh cento anni di Alberto Sordi cento quadri ognuno riprodurrà un un lato della vita di Alberto Sordi di qualche film del suo della sua vita della sua storia eh quindi ognuno con una propria tecnica e un proprio linguaggio noi siamo cento pittori veniamo un pochino ai cento pittori di Chiamargutta eh è un'associazione che è nata nel 1970 ma anche a lontane e ci sono ci sono artisti non ci sono soltanto artisti romani ma ci sono anche artisti che provengono eh anche da altre parti d'Italia e del mondo vengono sempre dalla Sardegna da Firenze Verona Olanda Bulgaria Mosca Sud America diciamo siamo una situazione eh internazionale eh se ognuno ognuno ha una tecnica diverso uno stile diverso quindi ci saranno cento modi di di rappresentare l'arte e sono cinque giorni diciamo quattro giorni di festa in cui l'arte scende in strada tutti gli artisti escono dai propri studi e dispongono a cielo aperto proprio per stare in contatto con la gente quindi diciamo ecco l'arte che si fa si fa viva in mezzo alla gente quindi l'arte incontra la gente e la gente incontra l'arte e possiamo dirlo finalmente 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 dopo tanti dopo tanti mesi al chiuso in cui non abbiamo potuto fare mostri questa mostra all'aperto è proprio significativa come punto di ripartenza e speriamo io credo che sia la cultura sia uno dei pilastri per la ripartenza perché se non c'è cultura è difficile fare ripartire perché la cultura è la base perché il mondo viva in pace dove c'è cultura c'è pace dove c'è cultura si abbattono i muri si abbattono le divisioni la gente si incontra se non c'è cultura ecco abbiamo i popoli che sono in guerra i popoli che sono in divisione per questo è importante e questo l'ha sottolineato anche l'Europa che la cultura deve che la ripartenza deve nascere dalla cultura complimenti veramente per questo messaggio semplice ma diretto e molto intenso e veramente profondo veramente complimenti a Luigi Salvatori presidente della mostra d'arte qui di Via Margutta a Roma il 15esimo mostra storica del mostra d'arte di Via Margutta con questi artisti veramente incredibili allora ritornando ad Alberto Sordia con una battuta un ricordo da parte tua una riflessione sul grande maestro dunque io per esempio ho fatto un quadro che riguarda Alberto Sordia è stata la bocca della verità perché ha detto la verità su tutto sui difetti e sui pregi dei romani e degli italiani in genere il mio dipinto riprende questa bocca della verità di Alberto Sordi ma ognuno di noi ha preso una caratteristica di Alberto Sordi un film, un lato storico della sua vita e dei suoi ricordi quindi ognuno di noi lo ha rappresentato in maniera diversa bene allora ricordiamo ancora oggi è l'anteprima il primo appuntamento con noi con il presidente Luigi Salvatori della mostra dell'associazione 100 pittori di Via Margutta che poi ritroveremo prossimamente prima del taglio del nastro come si vuol dire per dare delle news e delle curiosità e non solo e ritornare poi sul pezzo per quanto riguarda la mostra terza pagina magazine presente all'evento con photobook e non solo interviste varie, battute ma grande reportage di questo meraviglioso evento ricordo ancora ore 17, ore 17 presso Via Margutta a Roma presidente io la ringrazio per chiudere abbiamo ancora un minuto vuole lasciare ancora un messaggio invitando tutti coloro che sono anche curiosi anche per la prima volta che si avvicinano a questo evento sì diciamo che noi siamo conosciuti ma a volte vediamo che molta gente non lo sa dei 100 pittori soprattutto i giovani per cui io invito a venire siamo lungo Via Margutta e ci sarà una festa sempre nel rispetto del covid, del distanziamento sociale però sarà un momento veramente di festa perché di festa di luce e di colori troveranno i 100 pittori con i loro caratteristici cavalletti che sono sormontati dall'ombrellone che è la nostra caratteristica da sempre è un cavalletto con l'ombrellone e sotto ci sono dei quadri quindi è veramente un museo all'aria aperta invito tutti veramente a venire che sarà un momento gioioso anche d'incontro con gli artisti che sono ben lieti di riprendere per dialogare con la gente dopo tanti mesi di silenzio quindi li aspettiamo con desiderio aspettiamo questo momento di ripresa io ringrazio il presidente Luigi Salvatori dell'associazione 100 pittori di Via Margutta di essere stato qui con noi a terza pagina magazine primo appuntamento ma poi ci sarà un secondo appuntamento anteprima del taglio del nastro del 10 giugno per la 115esima storica mostra d'arte in favore del grande maestro in onore del grande maestro Alberto Sordi grazie a Luigi Salvatori e a presto grazie anche a voi a presto arrivederci